104 gli evasori totali scoperti, oltre 12 invece i milioni di euro sequestrati nell'ultimo anno. È la Guardia di Finanza di Arezzo, in occasione delle celebrazioni del 264esimo anniversario della Fondazione del Corpo, a tracciare un bilancio degli ultimi mesi di attività. Nel 2019, nei primi mesi del 2020, le fiamme gialle e aretine hanno eseguito più di 5.000 interventi operativi e sviluppato 1.051 indagini delegate dalla magistratura. Evasione fiscale internazionale, frodi carosello, indebite e compensazioni, traffici illeciti sono alcuni dei fenomeni più gravi, pericolosi e diffusi sul territorio provinciale su cui si è concentrata l'attenzione dei finanzieri. 33 i soggetti denunciati per reati fiscali ed oltre 12 milioni di euro il valore dei beni sequestrati. 26 casi di evasione fiscale internazionale rilevati, 170 invece i lavoratori nero scoperti e 107 i datori di lavoro sanzionati. Nel settore del contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica, le 29 indagini della Guardia di Finanza hanno portato alla denuncia di 35 persone in tre casi per indebite percezioni del rettito di cittadinanza. Fondamentale l'impegno anche al contrasto di ogni forma di infiltrazione ed iniziativa imprenditoriale della criminalità organizzata. Nel 2019 sono stati effettuati 828 accertamenti per il rilascio della documentazione antimafia, 64 gli accertamenti patrimoniali svolti con la proposta di sequestro di beni per oltre 2 milioni di euro. 16 invece i soggetti denunciati in materia di repressione del riciclaggio dei capitali illeciti con oltre 3 milioni e mezzo di operazioni accertate di ripulitura del denaro. Nel settore della tutela del mercato dei beni e dei servizi i reparti operativi hanno effettuato 55 interventi, 11 le denunce e sottoposto a sequestro oltre 46 mila prodotti contraffatti o non sicuri. I finanzieri inoltre negli ultimi 12 mesi hanno sequestrato circa 4 chili di sostanze stupefacenti denunciato 18 soggetti di cui sei tratti in arresto. Sul fronte dell'immigrazione clandestina 17 invece le persone denunciate. A seguito dell'emergenza covid-19 infine il corpo ha rivolto la propria attenzione al contrasto degli illeciti economico-finanziari, usura, riciclaggio, truffe e frodi ma anche manovre distorsive sui prezzi e violazione al codice degli appalti. Circa 6 mila inoltre i controlli svolti a partire dallo scorso marzo per assicurare il rispetto delle misure di contenimento della pandemia, capillare poi anche il monitoraggio dei finanzieri nei confronti delle aziende più facilmente aggredibili da parte della criminalità comune ed organizzata, attività volta ad impedire l'inquinamento dell'economia sana a retina nell'attuale periodo caratterizzato da una forte crisi di liquidità che rende le aziende più vulnerabili e così soggette a fenomeni di usura e riciclaggio. Grazie. Grazie.